Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera in questa bellissima chiesa, senza spera che ti faccio a Napoli. Io da Napolitana, però anche prima da Avellino, sono stata omaggiata a mia Napoli a fare, adesso vorrei, questi miei bellissimi quadri. Come potete notare, se vi fate un giro intorno, sono completamente tutte donne. Perché questi volti di donna? Perché per me la donna è un potere unico al mondo. Per cui questi sguardi, queste bocche, questi occhi grandi esprimono tanto, anche se tutte queste bocche sono chiuse. Quando la donna ha questa bocca di russa, compie tante cose. Io conosco Lucia da un paio anni, ci conosciamo, ed è nata subito questa bellissima amicizia, di cui mi ha subito capita nel modo in cui posso essere donna in tutto. e quindi mi ha omaggiata, insomma, di fare una copertina nel libro, di cui il bacio è uno dei quadri che è stato un po' più, diciamo, contato nella sua amicizia, perché era un riservato con l'amore in generale, nel 1960. Io sono contentissima di avervi, sono contentissima di ascoltare le vostre poesie e mi auguro che possiede un pomeriggio bellissimo. Dono un po' in un giro, insomma, così mi lasciate un momento, qualsiasi cosa, dà un po' più soggettivo, uno ci mette ciò che vuole. Grazie. Allora, questi colori, i colori sono colori dell'anima, perché io ho una vicinazione in cui è stata scritta che anche nell'anima più triste ci possono essere il cuore. Sì. E quindi, lo sai che io poi ho fatto speculenza sulla donna e quindi per la donna, insomma, deve essere, anche se è triste, deve sempre volare, gridare il suo dolore, come se non è male dentro. e di denunciare tutte le cose possibili in generale di questo punto, insomma. Uno non deve stare zitta a denuncare, deve cercare aiuto anche se c'è la punta del uso. Perché una donna, anche se sta zitta, può spiegare tante cose. Grazie mille a tutti e buonasera.